Musica 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 Dove? Vi ha interrotto Ci sono feriti? Ci sono feriti? Musica Musica A 15 e a 15 d'alba Musica Mi accorgo Musica Allora vi dovete legare subito in via a Conchia all'altese del Rondon Ci hanno segnalato un incidente con feriti Il 118 è già in arrivo Due veicoli coinvolti Davi confermo Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.